Buonasera, parlare dopo due persone così importanti sarà un po' diverso, comunque io mi sono preparata una piccola relazione che vi spiegherò, comunque, pellegrinaggio è un viaggio verso un luogo sacro, fatto per devozione, penitenza e preghiera, un pellegrinaggio è un viaggio compiuto per devozione e ricerca spirituale verso un luogo considerato sacro, questo sarebbe il pellegrinaggio. Sono stata chiamata per parlarvi dei pellegrinaggi, credo che tutti voi nella vostra vita abbiate sentito parlare dei santuari di Lourdes e di Loreto che sono forse i più importanti e famosi. Noi dell'Ordine di Malta ne organizziamo uno all'anno, come voi saprete l'organizzazione di questi pellegrinaggi inizia molto tempo prima e richiede un notevole sforzo di energie e di applicazione. Ogni vaggio richiede un'ampia programmazione e ciò è tanto più necessario quando trattasi di trasporto di disabili e di malati cronici. Nell'Ordine abbiamo dei medici che già alcuni mesi prima scelgono negli ospedali, nei centri di assistenza dell'Ordine di Malta e anche su segnalazioni private i malati che sono talvolta anche bambini affetti da gravi patologie. In questi casi i piccoli vengono da noi portati in pellegrinaggio accompagnati da un genitore, padre o madre. Il nostro principale obiettivo è che i signori malati si sentano sempre aiutati, mai lasciati soli e sempre da noi ascoltati in tutte le problematiche. Questo deve essere fondamentale, noi dobbiamo confortarli, assisterli, specie fisicamente ed infondere loro sicurezza e tranquillità. Le famiglie o gli istituti di cura alla partenza ce li assidano e noi, anche se talvolta in esperti, abbiamo il dovere morale di aiutarli sempre. Questo è il principio base su cui poggia tutto il pellegrinaggio. A volte potremmo essere stanchi o non capiremo il perché di una gerarchia che ci potrebbe sembrare obsoleta nel 2014, ma tutto ha una ragione ed un fine. Serve a che tutto funzioni, che tutto sia ben coordinato, orari, turni, assistenza, pasti, cerimonie, proprio come nella vita militare. Sembrerà strano, ma proprio gli stessi malati sono i primi a sapere tutto e questo a loro piace molto. Sanno tutto delle cerimonie, gli orari delle messe, i turni delle piscine. Dobbiamo pensare che per loro andare all'urdo o all'oretto è uscire da una routine. Molte volte a casa sono abbandonati a una vita fatta solo di ospedali, medicine oppure dolorose. Noi dobbiamo saper ascoltare le loro storie, la loro sofferenza e lenire la loro solitudine, che anche questa è una malattia. Molti di noi partono per un pellegrinaggio, con problemi interiori o anche con un senso di scetticismo su quello che ci aspetterà. Ho riscontrato invece che a ritorno a casa, dopo aver fatto amicizia con gli assistiti, ci si sente interiormente migliorati perché con la loro grande testimonianza di sofferenza riescono a infondere nei loro cuori i migliori sentimenti di conforto e di speranza. Pare incredibile, ma sono loro che ci danno a noi un esempio di vita. Nell'accompagnare i pellegrini malati e i disabili, gli assistenti vivono una profonda esperienza. Se molti sono venuti solo per aiutare, presto si trovano a confrontarsi con il rapporto diretto con Dio. Non torneremo a casa uguali a come siamo partiti. I malati sono coscienti di questo effetto, come sono coscienti di esserne i grandi responsabili. Il pellegrino che va all'Urd, forse in cor suo spera nel miracolo, ma il pellegrinaggio è preghiera. I santuari sono luoghi principalmente di preghiera. Noi abbiamo il dovere di spiegarlo agli assistiti e di non infondere vane speranze. I sacerdoti del nostro ordine sono presenti anche nelle sale, dove tutte le sere recitano il rosario. Ugualmente sono sempre disponibili nei confronti degli assistiti. Inoltre vi è anche un aspetto un po' più leggero del pellegrinaggio. Questa parte è lasciata alle giovani sorelle e ai barellieri, che con la loro allegria e gioventù riescono a rallegrare le sale dell'ospedale giocando e intrattenendo i piccoli pazienti, lasciando le madri libere di potersi recare alla grotta e alle cerimonie. Questi ragazzi sono forse i fautori della parte più confortante di tutte le fatiche dell'organizzazione del pellegrinaggio, perché rappresentano il domani. È importante far crescere questi giovani sorelle e barellieri che prenderanno il nostro posto quando saremo troppo vecchi per continuare. Posso assicurarvi che c'è una gioventù sana che ci aiuta e non si risparmia davanti ai lavori più umili e faticosi. Tutto ciò è molto confortante e significa che se continueremo a lavorare bene e con passione, motivando nei nostri ideali questi giovani, sarà assicurato un prospero futuro nell'ordine di Malta.